Ciao ragazzi, vi presento questo nuovo video che è stato fatto in zona di Carbonara-Scrivia. Il percorso è molto semplice, praticamente si imbocca salendo dal bivio del Sassone verso Carbonara, avanti 200 metri sulla destra, si prende la strada con l'indicato frazione Marianna, si può prendere anche avanti 50 metri, sempre sulla destra, la strada parallela con l'indicato Cascina-San Giovanni, sono indifferenti perché corrono parallele. Mi raccomando di prestare attenzione ad alcune svolte che bisogna fare lungo il tragitto, la più importante secondo me è più o meno a metà percorso a destra, bisogna svoltare a destra perché se si gira a sinistra si risale verso Spineto, dopodiché dopo fatta questa svolta a destra le altre sono tutte tenendo la sinistra e si arriverà fino alla strada che da Carezzano va verso Materna. Vi lascio le immagini, buon video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.